Oggi ho scritto per il Cryptonomist questo articolo di cui vi metto il link in descrizione in cui parlo di un'analisi molto interessante fatta da Jake Gordon di Bespoke Investment Group In particolare Gordon ha realizzato questo grafico con due linee, una azzurra e una blu tutte e due partono da 0% però quella azzurra arriva fino a 270% essendo passata addirittura per 370% mentre invece quella blu è salita al massimo fino a 130% e poi addirittura è scesa in territorio negativo Ma cosa significano queste due linee? Si tratta della percentuale di guadagno o di perdita accumulata nel tempo a partire da dicembre 2019 di due differenti strategie ipotetiche ma molto semplici La linea azzurra infatti corrisponde ai risultati che si sarebbero accumulati nel tempo a partire da dicembre 2019 nel caso in cui ci si fosse limitati a comprare Bitcoin alla chiusura dei mercati americani cioè attorno alle 16 ore di New York e rivenderli immediatamente prima della riapertura cioè alle 9.30 sempre ora di New York Invece la linea blu, viceversa, rappresenta una strategia e risultati di una strategia che prevederebbe di acquistare Bitcoin all'apertura dei mercati americani quindi alle 9.30 ore di New York e venderli alla chiusura, cioè alle 16 ore di New York Quindi, detto in altri termini, la linea azzurra rappresenta un'operatività sui mercati di Bitcoin durante la chiusura dei mercati americani mentre invece la linea blu rappresenta un'operatività sui mercati Bitcoin durante l'apertura, l'orario di apertura dei mercati finanziari statunitensi Beh, la differenza è proprio evidente La linea azzurra parte da 0 e arriva fino al 270% attuale La linea blu parte da 0 e arriva fino sotto lo 0 attuale Prima però di spiegarvi cosa questo significa Lascio brevemente la parola allo sponsor di questo video che è Crypto.com Crypto.com è una piattaforma che consente di comprare, vendere e fare trading di criptovalute in assoluto tra le più sicure al mondo tanto che ha addirittura un'assicurazione da 100 milioni di dollari per ogni evenienza e un'app disponibile sia per Android che per iOS Ovviamente vi metto il link in descrizione Torniamo a quello che ha scoperto Jake Gordon Tenete presente che da diversi mesi a questa parte il prezzo di Bitcoin segue un andamento simile a quello del Nasdaq Ovviamente solo quando il Nasdaq è aperto perché quando il Nasdaq è chiuso il prezzo di Bitcoin non è che rimane fermo Infatti nel periodo preso in considerazione da Gordon l'indice Nasdaq 100 ha guadagnato il 42% ma Bitcoin ha guadagnato il 300% In poche parole, in questo periodo, quando i mercati USA erano chiusi il prezzo è salito di più di Bitcoin rispetto a quando invece i mercati USA erano aperti oppure quando i mercati USA erano aperti il prezzo di Bitcoin è sceso di più rispetto a quando i mercati USA sono chiusi E questa cosa in realtà è valida anche solo in questi primi mesi del 2022 durante questo bear market infatti Gordon ha scoperto che andando a fare un'analisi simile solo nel 2022 si scopre che la prima strategia quella di operare quando i mercati USA sono chiusi avrebbe prodotto una perdita dell'8% ma l'altra strategia cioè operare solo a mercati americani aperti avrebbe prodotto una perdita del 30% su Bitcoin Ve lo dico in altri termini la correlazione tra il prezzo di Bitcoin e il Nasdaq sta facendo particolarmente male al prezzo di Bitcoin che quando invece è giocoforza decorrelato perché il Nasdaq non si muove il prezzo di Bitcoin performa meglio Ovviamente il massimo di questa performance si è verificato durante le grandi bolle speculative del 2021 ce ne sono stati due però comunque come potrete notare se qualcuno avesse operato sui mercati di Bitcoin durante l'apertura dei mercati statunitensi molto probabilmente oggi si ritroverebbe in perdita rispetto ad un eventuale capitale investito a dicembre del 2019 ovviamente si tratta di operazioni fatte tutti i giorni quindi questa è solo un'ipotesi cioè prendere il capitale tutti i giorni comprare e vendere o durante l'apertura dei mercati finanziari americani o no mentre invece se avesse scelto l'altra soluzione quella di operare a mercati chiusi banalmente comprando alla chiusura e rivendendo prima dell'apertura il guadagno sarebbe stato significativo non all'inizio perché poi c'è stato anche il famoso grosso problema del crollo dei mercati finanziari a marzo del 2020 però poi la performance è stata sarebbe stata davvero eccezionale il confronto tra quei due grafici è davvero impietoso è impossibile che non significhi niente anzi è evidente che significa davvero qualcosa ovvero che fin tanto che bitcoin viene utilizzato sui mercati americani come un asset come qualsiasi altro non performa particolarmente bene o performa male mentre invece performa particolarmente bene nel caso in cui venga invece utilizzato in modo scorrelato e in particolare io oserei dire visto questi dati quando si tratta del mercato asiatico ah tenete presente che poi ci sono le eccezioni quella di Gordon come vedete è una media in realtà giornalmente va su e giù ad esempio questa notte il prezzo è sceso di bitcoin proprio a mercati americani chiusi e probabilmente molto probabilmente a causa dei mercati asiatici anzi Asia Pacifico perché il problema questa notte è stato che l'Australia ha alzato i tassi di interesse non di 25 punti base come tutti si aspettavano ma di 50 in modo inaspettato e quindi i mercati asiatici sono andati in difficoltà ed è andato in difficoltà anche bitcoin quindi comunque bitcoin in qualche modo viene influenzato anche pesantemente dall'andamento dei mercati finanziari ma viene influenzato in maniera differente dall'andamento dei mercati finanziari americani rispetto a quello dei mercati asiatici tra l'altro guardate che cosa curiosa prendiamo sempre questo periodo di riferimento cioè da dicembre 2019 fino ad oggi sopra il prezzo di bitcoin in mezzo al Nasdaq 100 e come vedete l'andamento è decisamente simile e sotto l'indice Hang Seng della borsa di Hong Kong che come vedete più o meno fino a questo punto fino a febbraio 2021 era simile a quello del Nasdaq che è quello di bitcoin ma dopo è diventato differente nel senso che semplicemente ha continuato a crescere mentre invece il Nasdaq e bitcoin hanno raggiunto i loro massimi tra novembre e dicembre del 2021 quindi il prezzo di bitcoin è correlato al Nasdaq ma non è correlato al Hang Seng forse è proprio per questo che a mercati americani chiusi il prezzo di bitcoin performa meglio perché a mercati americani chiusi sembra essere decorrelato dal mercato azionario asiatico ora io non so dirvi se questa dinamica continuerà nel corso del tempo quello che però so dirvi è che ci sono diverse analisti diversi analisti che ipotizzano che i mercati finanziari americani difficilmente sul breve periodo miglioreranno la loro situazione la situazione negli Stati Uniti potrebbe rimanere difficile e quindi possiamo anche immaginare che se il prezzo di bitcoin continuerà a essere correlato al Nasdaq potrebbe essere difficile anche il breve periodo per bitcoin poi però magari i mercati asiatici ci riserveranno qualche sorpresa staremo a vedere io ovviamente vi terrò informati ma vi invito a seguirmi su Twitter vi metto il link in descrizione perché su Twitter pubblico tutte le notizie, tutti i giorni appena le vedo un saluto, ciao